Ciao ragazzi, oggi ci divertiamo tantissimo, sapete perché? Perché ho da proporvi la mia idea di mercato invernale per l'Inter. Ovviamente è un ideale a qui tendere, perché ormai manca solo una settimana e fino a qualche giorno fa non c'era ancora la situazione Skriniar così esplosa, quindi adesso bisogna correre i ripari, bisogna capire cosa si può fare e l'Inter deve sempre comunque incassare dei soldi, non può rischiare di perdere Skriniar a zero, bisognerebbe incentivare il PSG a fare un'offerta e allo stesso tempo bisogna pensare a chi comprare per sostituirlo, lui e anche potenzialmente degli altri che adesso vedremo, quindi la difficoltà è enorme, però io la mia propostina la voglio fare, chiaramente, ripeto, è un ideale a qui tendere. Mi aiuterò con Excel, quindi pronti con i numeri, perché chiaramente tutto va fatto calcolando le cose, tenendo conto della sostenibilità, della fattibilità, del realismo delle cose e niente, adesso partiamo. Ovviamente io vi ricordo di lasciare like al video, di condividerlo, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, lo dico anche a chi magari dovesse essere nuovo, questo è un canale dove si fanno tanti approfondimenti e secondo me molto interessanti, e quindi non perdetevi i contenuti, poi chi volesse può anche abbonarsi per sostenere la qualità e l'impegno. Andiamo direttamente alla tavola Excel, spiego, ricordo in maniera velocissima cos'è sta cosa. Sono praticamente i costi della rosa dell'Inter, vedete che ci sono tutti quanti i giocatori, il costo rosa cos'è? È l'insieme dei costi, degli ammortamenti dei giocatori uniti ai loro ingaggi lordi, perché contano i lordi per la società. Quindi, questo è il panorama. Perché abbiamo delle colonne a sinistra e altre a destra che sembrano replicarsi? Sì, perché a sinistra abbiamo le colonne, diciamo, dei costi budgetizzati dall'inizio della stagione, e nelle colonne invece a destra abbiamo i costi come diventeranno con eventualmente quello che andrò a fare io. Quindi, tenendo conto di questi prossimi mesi. Allora, ovviamente siamo in gennaio, non è che possiamo rivoluzionare la squadra, e poi abbiamo pochi giorni. Quindi, tutti i primi vari 7-8 giocatori che vedete, da Andanovic a da Cerbi, non c'è nessuna modifica. Quello, cioè, rimangono, quindi sono stati presi. Il costo che avevano dall'inizio stagione è esattamente quello che avranno. Quindi non si modifica nulla. La prima grande modifica è su Skriniar. Partiamo subito con il botto. Skriniar che bisogna cercare in tutti i modi di vendere ora al PSG, sia per monetizzare e sia perché è un problema ambientale e terzo motivo perché tenerlo non conviene più di tanto perché è un giocatore che anche mentalmente non è più al 100% e quindi non è che ce lo gustiamo nei prossimi mesi probabilmente al massimo della sua forma, no? Quindi non conviene, cioè, conviene liberarsene subito. Questo è il punto. Ormai la gestione scriteriata è stata fatta, almeno corriamo i ripari con accessione. Io ho ipotizzato la gestione a 20 milioni, però ci arrivo un attimo, adesso mi spiego meglio. 20 milioni che garantirebbero una plusvalenza di circa 17 milioni all'Inter e questo aiuta. Chiaramente vendendo il giocatore abbassiamo anche i costi perché chiaramente lui va via e quindi abbiamo di fatto lo stipendio che non glielo diamo tutto per l'anno, no? Ma solo per i mesi che ha giocato, quindi qualche costino in meno c'è. Diceva, ecco, i 20 milioni sono abbastanza, non sono pochi. È chiaro che il PSG, bisogna un po' incentivarlo a darteli. Come si fa? Perché hanno la parte, il coltello da parte del manico, l'Inter non ce l'ha. Zero. Quindi è difficile arrivare a quella cifra. Però, però, io avrei un'idea, incastrandola con un' serie di altre cose che adesso vedremo, avrei un'idea di proporre al PSG un deal, uno scambio. Quindi, non, diciamo, chiedendo al PSG 20 milioni a livello di soldi, ma darci una contropartita per Skriniar. Comunque, la plusvalenza vale lo stesso, vi ho spiegato mille volte come funziona la contabilità di un club e quindi, insomma, chi avesse dubbi chieda, però, insomma, dovrebbe essere tutto chiaro. E sapete che proporre uno scambio può essere anche vantaggioso anche per il PSG, perché magari se è un giocatore con cui possono fare comunque plusvalenza e che non è fondamentalissimo per loro, magari si può anche imbastire qualcosa e potrebbero quotarte lo Skriniar 20, considerando che non hanno tantissimi centrali e hanno anche Kim Ben-Pae che attualmente è infortunato. Chi sarebbe questo giocatore che avrei individuato interessante come contropartita è Mucchiele, ragazzi, Mucchiele, veniamo giù qui in fondo sulla destra, vedete che Mucchiele l'ho quotato appunto 20, scambio alla pari, non è facile capire se possono essere interessati a quotarlo così, eccetera, però, secondo me è un giocatore che vale ben più di 20, però il punto è che l'hanno preso intorno ai 12 milioni, quindi farebbero comunque una plusvalenza di 10 milioni l'hanno preso quest'estate, il suo contratto attualmente è di 2 milioni netti, quindi non prende uno sproposito di soldi, quindi ho considerato anche quello e penso che magari se l'Inter gliene proponga, gliene può proporre 3 magari netti, 3, 3 e mezzo netti per 4 e mezzo stagioni, perché è il limite, ci sarebbero 5 anni di contratto, ma metà è già passata la stagione, quindi, di fatto, secondo me potrebbe anche essere interessante, non dico che sia facile, ma è un'idea, è un'idea, chiaramente i costi che vedete di Munchielet per questi 6 mesi sarebbero 2 milioni e 2 di ammortamento, 1 e mezzo è il netto che andrebbe a percepire, ma col decreto crescita sono 2, quindi risparmiamo un po' sull'ordo ed è perfettamente compatibile. Ora però abbiamo un giocatore in più, cioè nel senso Munchielet che di fatto, lo descrivo brevemente, è un difensore è un giocatore piuttosto flessibile, un po' alla Darmian non come caratteristiche, ma come flessibilità, cioè è un giocatore che può perfettamente fare il terzo di difesa, ma può fare anche il quinto di centrocampo, perché di fatto è un terzino, ma ha grande solidità difensiva, bel fisico, ma ha anche gamba e ha anche la capacità di colpire di testa, chiudere l'azione sul secondo palo, sono cose che fa abitualmente, quindi sarebbe perfetto sia per sostituire Skriniar sia per considerarlo come potenziale quinto nel momento in cui riuscissi a cedere anche Doomfries, giocatore che è sul mercato e che bisogna riuscire a cedere, se non adesso a giugno, quindi ti troveresti comunque con Doomfries in meno, o adesso o a giugno, quindi questo giocatore sarebbe veramente un jolly perfetto per entrambe le situazioni e tra l'altro non ti comporta fare mille trattative perché è solo con un club, ti risolvi il problema Skriniar, trovi la soluzione Munchielet col PSG che è un club solo e fai una cosa sola e magari gli incentivi a quotarti Skriniar 20. Chiuso il primo pacchetto, andiamo avanti, vabbè, Darmian c'è il rinnovo, ok, la cessione d'Albert è un'altra cessione che bisogna fare ma non penso di ricavarci molto, quindi diamo via praticamente a zero, magari qualcuno si pesca l'ingaggio anche perché è in scadenza del 2023 quindi non sposta molto però c'è un piccolo risparmio sullo stipendio. C'è Doomfries, cessione Doomfries, io ho messo sembra che l'Inter chiedesse 50 o altre cose ma anche 40 vanno bene. Attualmente il suo peso, il suo residuo a bilancio è intorno ai 10, 9, 10 quindi sarebbero comunque 30 milioni di plusvalenza e uniti ai 17 di Doomfries siamo a quota 47 quindi l'obiettivo stagionale è assolutamente centrato, saremo appostissimo senza arrivare a giugno con l'acqua alla gola e svendere giocatori più bassi di quotazione perché devi per forza cedere e sei agli ultimi momenti. Io anticiperei la mossa quindi via Doomfries 40 milioni subito magari al Tottenham al Chelsea sono una squadra interessate e tra l'altro Doomfries è sempre fuori ultimamente secondo me qualche vuol dire che qualche interessamento e qualcosa potenzialmente ci potrebbe anche essere quindi ecco questo tenendo conto che abbiamo pochi giorni e che deve essere realistica la cosa quindi mi sembrano cose sì che muove i vari giocatori ma sono tutte già un po' preparate le cose no? cioè ci sono delle il terreno è fertile non sono trattativo di imbastire totalmente da zero forse quindi questo è ovviamente abbiamo un piccolissimo risparmio su Doomfries per quanto riguarda lo stipendio che non preciperà in questi mesi eccetera però siamo già coperti perché abbiamo preso comunque Mucchiele arrivati a questo punto abbiamo ceduto Scrinia ceduto Doomfries abbiamo preso Mucchiele però cioè diciamo ci manca forse un altro giocatore nel senso che Mucchiele se abbiamo l'opzione di dire vabbè ma giochiamo con Darmian e Bellanova sulla fascia e Mucchiele fa il terzo oppure Mucchiele prende il posto di Doomfries effettivamente però allora ci manca forse un difessore centrale a questo punto ovviamente il prescelto per me è proprio Thiago Diallo che è il giocatore che piace a usilio in queste ore fatalità e lui è un difensore è un difensore effettivamente proprio un braccetto perfettamente un braccetto quindi difensore centrale fisico da difensore un po' più un po' più veloce di Scrinia chiaramente non è al livello di Scrinia però bisogna cadere in piedi in questo modo cadi un po' in piedi è un giocatore giovane futuribile lo si può prendere secondo me verso i 15 milioni lo puoi prendere perché è un giocatore che comunque in scadenza fra un anno e mezzo a giugno sarebbe in scadenza tra un anno quindi non ti possono tirare troppo troppo l'offerta sui 15 ci siamo ha uno stipendio molto basso e molto giovane ha il decreto crescita pure lui tra l'altro vedete che i costi annuali sono veramente risibili quindi è perfettamente compatibile poi c'è un'altra cessione potremmo finire qua al mercato e sarebbe già un colpo magistrale secondo me sarebbe un cadere in piedi a livelli pazzeschi e avresti fatto le plusvalenze sei a posto col bilancio sei a posto a livello di giocatori e sostituito entrambi i giocatori hai fatto player trading quindi top hai preso due giocatori giovani quindi anche su questo aspetto top e in più hai anche abbassato i costi perché facendo queste due operazioni e così hai comunque abbassato i costi però mettiamoci un'altra cosa mettiamoci una cosa ancora in più mi rendo conto che è difficile fare tutto però un'altra un'altra idea ancora oltre a questo sarebbe quella di visto che Gagliardini è anche lui in orbita cessione ci sono gli interessamenti vari in giro e ormai scade il contratto quindi basta poco basta che offrano pochissimo e possiamo anche cederlo è il giocatore che vuole andare via io ho fissato un prezzo a due milioni e mezzo per me due milioni e mezzo può partire così non facciamo minusvalenza va via libera diciamo qualche piccolo costo a bilancio perché una parte dell'ammortamento annuale e una parte dello stipendio annuale quindi ok e io forse per me ci sono mille altre anche possibilità però prenderei un giocatore che è molto sconosciuto purtroppo in Italia ed è molto sottostimato ma meritava di più secondo me in carriera che Hans Vanaken del Club Bruges è il capitano del Club Bruges in estate aveva anche detto di essere interessato a nuova esperienza andare via perché comunque per quanto possa essere il capitano del Bruges il capitano di una squadra belga è chiaro che ti piacerebbe anche finire la carriera magari in un campionato migliore e giocarti qualche carta per farvi capire un po' che giocatore è Vanaken dovete pensare a Milinkovic Savic è Savic belga chi gioca in Belgio chiaramente con le dovute proporzioni però è un tipo di giocatore così cioè è un centrocampista una mezzala barra trequartista molto alto molto bravo negli inserimenti con tecnica e con grande capacità di finalizzare ma è ovviamente anche un giocatore esperto capitano ha personalità ha 30 anni secondo me non è neanche prendibile a cifre mostruose si parlava il West Ham mi sembrava che avesse offerto 10 milioni quest'estate rifiutata l'offerta poi ha fatto rinnovo di contratto ma secondo me per 15-16 lo porti a casa contratto di 4 anni ha 30 anni appena compiuti ma fino a 34 questo è un giocatore che va anche perché ha qualità si può fare tranquillamente lo stipendio sarebbe anche abbastanza basso secondo me con 3 milioni netti lo convince adesso prende mi sembra che prenda una cosa tipo un milione netto al club russo che ovviamente ha altre disponibilità economiche quindi con 2 milioni e mezzo 3 eccetera lo puoi tranquillamente convincere nonostante sia capitano lo stiamo vedendo anche noi a parti invertite no quindi io ci punterei perché manca all'Inter un giocatore alto fisico di grande inserimento comunque con qualità ed esperienza a centro campo secondo me in questo modo hai tolto Gagliardini Dumfries Scrinier sei caduto non in piedi di più che in piedi hai preso 3 giocatori funzionalissimi al progetto veramente sensati ti sei potenziato su Gagliardini perché Vanakin è sicuramente un passo in più di Gagliardini anzi due passi due step in più di Gagliardini anzi un giocatore che secondo me potrebbe essere interessante potremmo vederlo spesso in campo Mucchiele è un giocatore molto valido Tiago Delo invece è un giocatore più giovane di promettente avresti fatto un mercato clamoroso super sostenibile e i costi guardate voi da 222 budgetizzati quest'anno scende addirittura qualcosina varia 220 e hai fatto circa 50 milioni di plusvalenze questo è tutto io se fosse se succedesse una nuova così stapperei sette bottiglie mi rendo conto che le possibilità sono molto scarse primo perché il tempo è breve purtroppo non ci siamo mossi per tempo come al solito insomma come i contratti come rinnovi vabbè e poi perché non so non so se questa dirigenza possa pensare a una cosa così vabbè comunque non so ecco se tipo Vanaken lo guardino vabbè quindi vediamo in ogni caso se non è Vanaken abbiamo la possibilità di prendere qualsiasi altro giocatore perché lo spazio di bilancio c'è hai fatto comunque le plusvalenze quindi sei a posto in quel senso e si può sostituire Gagliardini senza grandi problemi ecco a prescindere da Vanaken ci sono anche altri profili un profilo che a me piacerebbe per esempio tantissimo è che è friend to ram però costa un po' di più immagino giocatore molto giovane diverso da Vanaken però vabbè insomma ci sono mille possibilità ragazzi dite quello che pensate non so non so se essere fiducioso ma il senso di questo video è con creatività facendo scouting con coraggio si possono fare delle operazioni si può fare un mercato sostenibile e con i contro i contro maroni cioè questo è il senso questo è il senso capendo un po' di tattica facendo scouting e capendo anche un po' di economia cioè come impattano gli acquisti come impattano le cessioni eccetera eccetera connettendo tutte queste competenze si possono fare le cose senza per forza aumentare i costi senza fare cose assurde eccetera eccetera e oltre a sistemare le cose vai anche a toglierti i problemi che attualmente abbiamo a livello ambientale di bilancio screener e mille casini oh questo è ditemi quello che pensate secondo me sarebbe una figata stroboscopica fatemi fatemi sapere voi cosa ne pensate o se avete altre idee ovviamente o insomma commenti eventuali eccetera eccetera ragazzi vi saluto e domani lo dico soprattutto a chi interessato e ha fatto l'abbonamento domani la live serale ci sarà domani sera verso le 21 quindi giovedì ogni giovedì e poi oltre a questo domani voglio fare un video o due video scouting che mi sono stati commissionati da alcuni di voi tra gli abbonati che hanno fatto il livello di abbonamento mecenate che è un livello che dà la possibilità di chiedermi di fare scouting di un giocatore quindi domani voglio inaugurare la cosa ragazzi vi saluto forza inter poi ci aggiorneremo vedremo cosa abbiamo fatto veramente e poi chiaramente faremo altri aggiornamenti per l'estate per prossimi colpi o altre cose o eventuali rinnovi vi saluto ciao ragazzi alla prossima ciao